La OMG è un'azienda che produce test accessorie per il settore delle macchine utensili. Noi produciamo diversi tipi di test accessori un po' per tutte le lavorazioni meccaniche quindi test angolari, test a sfacciare, torretta revolver e principalmente siamo focalizzati sia sul prodotto standard, quindi con il nostro catalogo, e sia sul prodotto custom, quindi per le singole esigenze dei diversi clienti specifiche proprio sulla singola applicazione. Per il Next Pay in particolare per questa edizione abbiamo portato numerose novità, in particolare tutta la serie nuova di moltiplicatori di giri denominata MOX che sono moltiplicatori per lavorazioni ad alta velocità di foratura e fresatura dove abbiamo rifatto completamente tutto il layout e gli organi interni. Abbiamo le teste digital, DAV digital in particolare, sono teste che permettono l'orientamento manuale dell'asse di lavoro e in questo caso sono predisposte per avere un display per la visualizzazione per il setup rapido appunto dell'angolo di lavoro. Dopodiché abbiamo la nostra soluzione per quanto riguarda l'industria 4.0, quindi è un dispositivo sviluppato da noi che viene montato a bordo delle nostre teste e permette il rilievo in tempo reale dei parametri di utilizzo. Dopodiché c'è un portale dedicato al singolo cliente che può visionare appunto in real time l'andamento della lavorazione della propria testa oppure anche fare delle analisi storiche e vedere il trend di come questi parametri acquisiti durante il ciclo di vita del prodotto per poi fare magari analisi, fare in ottica manutenzione predittiva appunto delle proprie teste. L'ultima novità che abbiamo qui al MEXT è appunto il completamento della gamma delle teste a sfacciare che sono l'ultimo prodotto nato all'interno del nostro portafoglio, in particolare quella serie 400 che è la taglia più piccola che non era presente appunto fino adesso e ora l'abbiamo realizzata in modo da completare tutta la gamma di testa a sfacciare per macchine di medie grosse dimensioni.